Benvenuti alla finalissima del triennio, si affrontano la Coccozza Steam contro i 34 che nel video precedente della semifinale avevamo chiamato Non Ne Ho Idea, quindi scusiamoci per il video precedente Coccozza Steam La Coccozza Steam si presenta con la coppia Coccozza Cerbone in panchina, Nando Basco, pronta a entrare Invece i 34 che ora provano la conclusione con D'Angelo, si presentano appunto con il sottoscritto D'Angelo Sorrentino, Carmine e Lorenzo Greco, straordinario VIP di questo torneo Coccozza Palla per il fratellino Coccozza Che prova un dribbling, poi il sinistro E poi D'Angelo E la palla in rete, 1-0 D'Angelo Colo qua, 1-0 Passa in vattaggio al 34 Cerbone con la sua tutina, guardiamolo Molto sexy Matteo Cerbone, calzamaglia Greco, d'Angelo Calcia di destro Palla sulla traversa intanto Di grazie a chi vedi favorito in questa finale Il cammino del 34 è stato quasi semplice Mentre la Coccozza Stim se l'è dovuta sudare nel proprio girone Vabbè, diciamo anche che ha affrontato avversari molto più duri Come l'esempio due volte la New Team Mentre il 34, diciamo la verità Nettamente superiore ai suoi avversari Cerbone col destro Cerbone, dribbling secco Conclusione Cambio Vediamo chi entra fuori Cerbone con la calzamaglia Antiestetico Cerbone Dentro Nandini o Basco Dentro, eccolo là, Basco Numero 99 Basco Coccozza Mette giù Palla per Nando Basco Non si vede più niente Coccozza Coccozza Forse è Angolo No, il fondo Chissà se la finale di questo triennio sarà vincente ed emozionante Come quella del Biennio Greco 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 E poi c'è Angolo Cacciò d'Angolo Batte d'Angelo Ai 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 La conclusione è sul fondo Coccozza Basco Ancora l'indietro per Coccozza Temporeggia la Coccozza Steam Basco Basco Non trova nessuno 1-0 il risultato Per il 34 Palla verso Sorrentino Non ci arriva E intanto è rientrato Cerbone Al posto di Coccozza Junior Cerbone Vediamo se la dà lì indietro Attenzione Numero di Cerbone Veronica è in mezzo a due Lava, non passa Ciro Montori Chi vince? Coccozza Nando Basco Prova il drill Secco Coccozza Allargava il Cerbone Buono il gioco Più presente In questo torneo E poi la conclusione Ha provato a chiuderla Carmine Sorrentino Le ha giocate tutte E tra Coccozzinio E poi Greco la prova Una magia Greco Inquadriamolo Saluto poi il pubblico Saluto i genitori a casa Saluto la sorellina Ai 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 Ce l'hai ma non lo sai Poi la conclusione di D'Angelo Palla in rimessa laterale Attenzione Iscita Cerbone Miglior giocatore Dello sbordo Nel league Si è distinto Anche questo D'annascondo Palla per Coccozza Basco Destro Rete Ma solo nella porta grande 99 Basco Maglietta di Jerome Attenzione Coccozza Destro Potente ma Sorrentino Basco Coccozza Avanza Coccozza Vediamo se Prova la conclusione D'Angelo Leoncino Chiude tutto Basco Ripalla D'Angelo Coccozza ci prova Solo fondo Rimessa dal fondo Per i 34 Conducano la partita 1 a 0 Sorrentino D'Angelo Attenzione Libero Sorrentino Carmine Sorrentino La prova Il numero Rimessa Laterale Palla troppo lunga Cerbone Batte da solo Cerbone Prova ad andare Calcio d'angolo All in the box Per la Coccozza Stim sotto di uno Mancano pochi secondi Il tempo Gira veloce Coccozza ci prova Pacchia e poi tiro Coccozzinio Sul fondo Di nulla Ma Poteva Non lo so Manca poco Comunque Poteva esserci Il calcio Di rigore Mezzura La Coccozza Stim Chiedeva L'angolo Invece Solo fondo Sorrentino Qui si dimentica Come si gioca A calcio Coccozza Coccozzinio Cerbone Provate ad andare Cerbone Attenzione Dribli in secco Rimpallo Palla per i Coccozza Che avanzano Coccozzinio Per Coccozza Che sbaglia Difficoltà di palleggio Per la formazione Sotto di uno Coccozzinio Va Coccozzinio Sul fondo Sarà l'ultimo cambio Entra Nandino Basco Esce Coccozzinio Che ha appena sfiorato Un bel gol Uno alla fine Greco Cerbone Lo chiude Ma sarà solo Rimessa dal fondo Per la formazione Di 34 Che battono Cerbone ancora Chiude tutto Cerbone lungo Occhio alle mani di Basco Coccozza Palla per Cerbone Vediamo Cerbone Prova il dribbling D'Angelo lo chiude Ancora Cerbone E poi c'è un intervento Da parte di D'Angelo Al dubbio 30 secondi alla fine Basco numero Cerbone palo Sul finire Palo di Cerbone Di nulla Stava per pareggiare La Coccozza Stim Sfortuna Questione di centimetri Nel calcio Ci sta 30 secondi Coccozza Avanza Vediamo se ci prova Anzi no per Basco C'è Greco praticamente Nella porta Se la tocca il rigore Greco Tutto regolare Tutto regolare Greco ha fatto Quel passo Che ha fatto la differenza Proprio sul fine Vediamo Cerbone Prova il dribbling Cerbone Numero Attenzione Anc'altro contatto Sorrentino Non va Restate con noi però Ultima azione All in the box Per i Coccozza Stim Cerbone Coccozza Pasco Coccozza E' finita Sono campioni Del Scorpion League I 34 Di Carmine Sorrentino Enrico D'Angelo E Lorenzo Greco Ospiti per noi In questo torneo Tutto sbordone Proprio loro Esterni Lo vincono Ecco Il mio grande amico Greco Intervista live A chi dedichi questa prestazione E questa vittoria La mia squadra Che ci siamo insieme Da molti anni Siamo un gruppo Dici la verità All'inizio Quando ti sei iscritto Pensavi di portarlo a casa Questo trofeo Io gioco sempre per vincere Poi si perdiamo Greco Non si pensa Il fatto che non c'è Dallo Scorpion League È tutto Ci vediamo allo sbordone League